Calcio mercato Inter, pressing sul Barcellona per il difensore, la società nerazzurra fa sul serio. I casting per il nuovo difensore centrale sono ancora aperti in casa Inter. I nerazzurri sono a caccia di un difensore in grado di sostituire Milan Skriniar. Diversi i nomi sotto la lente di ingrandimento del club. Tra questi Bissex, Chalobah e Koulibaly. Ma ultimamente sul tacquino di Marotta e Ausilio è finito un altro nome che potrebbe garantire esperienza alla retroguardia nerazzurra. Il nuovo nome per la difesa dell'Inter è quello di Samuel Umtiti, giocatore che ha dato sfoggio delle sue qualità nel corso della stagione da poco conclusa con la maia del Lecce. Secondo quanto riportato da tutto mercato web, Umtiti non è solo nel mirino dell'Inter, ma anche in quello del Lione. Il difensore ha però un contratto con i Blaugrana fino al 2026 e per risparmiare sull'alto ingaggio del giocatore francese, il Barcellona sarebbe provando a piazzare Umtiti nel florido campionato arabo, dove non ci sarebbero resistenze sul cartellino del difensore e relativo ingaggio. L'idea dell'Inter sarebbe quella di un prestito con parte dell'alto ingaggio di Umtiti pagato dallo stesso club spagnolo. Vi piacerebbe Maia Nerazzurra?